Le prossime tre serie sono dedicate al nostro bicipite e al nostro quadricipite, due grandi gruppi muscolari su tutto il nostro corpo. Cominciamo con un unico affondo. Appoggio la gamba destra in avanti e la gamba sinistra va indietro. Il mio intento va sul talone, talone davanti, così proteggo anche il ginocchio e scendo, vado. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, un altro, otto, vai. Eight, seven, six, five, four. Potresti sentire un po' di acido lattico in questo. Facciamo un altro otto, dai. In questo lavoro puoi anche sentire un po' di acido lattico, ma sai che questo è semplicemente perché ti stai tonificando, ti stai migliorando, giusto? Cambiamo gamba, cambiamo, stessa identica cosa. Tre, otto, scendiamo. Amo, due, tre, quattro, abdominali sono sempre tesi, ok? Sette, otto ancora. Eight, seven, six, five. Ci mancano ancora un otto, ancora un otto. Ricordate sempre, busto e retto. Guardate anche leggermente in alto, abdominali tesi, ok? Ottima, otto. Già si bruciano un po', già si bruciano un po', mentre i nostri agami si mettono a recuperare. Andiamo a lavorare i nostri bicipiti. Mani giù, cominciamo semplicemente in avanti, giù, in avanti, più veloce. Facciamo. Eight, seven, six, five, four, three, altro otto in avanti, sempre in avanti. Andiamo, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, adesso in fuori. Giriamo le braccia in fuori, giù, fuori. Vedi come lo sto facendo? Ok, adesso andiamo a tempo della musica. Facciamo. Eight, seven, six, five, four, three, two, altre otto. Adesso qua non carichiamo troppi bicipiti, così lavoriamo in velocità per dare definizione senza troppo masse. In avanti per otto, vai. Eight, seven, six, five, four, three, two, in fuori, vai. Eight, seven, six, five, adesso lo facciamo quattro per quattro. In avanti, i gomiti rimangono appiccicati alla tua vita. Quattro, tre, due, quattro in fuori, vai. Quattro, tre, due, adesso in due, andiamo. Due, uno, fuori, due, ancora, mantieni il ritmo, let's go. In uno, adesso andiamo. Avanti, fuori, due, fuori, tre, fuori, quattro. Come on. Eh, cinque, sei, sette, otto. Ok, relax. Prima serie è andata. È andata pure bene, direi. Come on. Fun Connor. And finalement. CioppWhite. Cioppięcy. Cioppyeong Cioppそyeong. Ciopp joining Ontario. Ciopp Bronx. Ciopp Anita. Cioppagne. Cioppúde. Ciopp Maori. Cioppariest